Oltre 30 eventi in tre giorni tra presentazione di libri, residenze letterarie e spettacoli per i più piccoli, trekking, concerti e un'anteprima speciale. Si chiude con l'entusiasmo del pubblico di ogni età la quarta edizione di Isle Book Festival curata da Elena Dardano tra Villaggio Mancuso e Il Verde della Sila Catanzarese. Il progetto letterario, il primo completamente plastic free in Calabria che sposa letteratura e natura tra i boschi del Parco Nazionale della Sila, vuole riflettere sull'essenza delle cose attraverso i libri, strumento di indagine, identità viva con cui osservare il mondo, sviluppare un sentimento critico, comprendere la realtà potenziale, la propria immaginazione e sentirsi dunque liberi. Ospiti, scrittori, artisti, ma anche associazioni del territorio e imprese di successo che hanno a cuore l'ambiente e la cultura. Partecipazione di ragazzi come quelli venuti anche da Lazio per tre giorni di residenza, sperimentando workshop laboratoriali e scrittura, il tutto immersi nel bosco. Dalle presentazioni alle passeggiate letterarie, sino alle mostre, per ricercare attraverso la letteratura l'armonia nascosta delle cose. Siamo molto soddisfatti perché il pubblico si è confermato un pubblico affezionato e il festival sta crescendo, un festival che coniuga letteratura, natura e le arti. Soprattutto quest'anno abbiamo avuto diversi appuntamenti multidisciplinari, c'è stato il teatro, il cinema, la fotografia, la natura, l'ecologia con le escursioni, una serie di eventi che incrociano le arti, però parlando di un filo conduttore comune che è la letteratura, i libri. Tanti gli appuntamenti, uno di cui andiamo molto fiere è l'appuntamento in collaborazione con Plastic Free. Quest'anno il festival è stato il primo festival in Calabria ad avere il bollino eco-event di Plastic Free. Abbiamo organizzato una bellissima passeggiata ecologica che ha ripulito i nostri parchi. Questo perché il festival vuole unire il confronto critico con l'ecologia e la sostenibilità ambientale.